Clamorose le dichiarazioni di Chiellini che scatenano una serie di contrastanti correnti di pensiero sulla Juve, la Rosa e l'allenatore. Guarda tutto il video per capire quale bomba ha sganciato l'ex difensore della Juve. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. In una dichiarazione sorprendente, Giorgio Chiellini apre il sipario sul ruolo cruciale degli allenatori, nel plasmare il destino dei giocatori e delle squadre. Parlando a Sky Sport, il difensore della Juventus rivela l'impatto significativo che Antonio Conte e Massimiliano Allegri hanno avuto sulla sua carriera e sulla squadra. Conte mi ha insegnato a giocare a calcio, afferma Chiellini, riconoscendo il contributo fondamentale del tecnico italiano nel cambiare la sua visione del gioco. Con lui ho imparato a giocare la palla dalla linea di fondo, è stato un cambiamento totale nella mia prospettiva calcistica. Ma Chiellini non si ferma qui. Parla poi di Allegri, sottolineando come il coach abbia portato la sua evoluzione a un livello successivo. Con Allegri ho fatto un'altra evoluzione, diventava un gioco pensante, aggiunge, evidenziando il modo in cui l'attuale allenatore della Juventus ha contribuito a sviluppare un approccio più tattico e strategico al calcio. Le dichiarazioni di Chiellini non passano però inosservate, quando si concentra sulla situazione attuale della Juventus, sotto la guida di Allegri. Prima di sentire le tuonanti parole dell'ex difensore della Juve, vi vogliamo chiedere, quanto manca alla Juve un difensore come Chiellini? Scrivilo nei commenti sotto al video. Le parole di Chiellini sono state «sono un pretoriano di Allegri», ha dichiarato con fermezza, difendendo il lavoro del tecnico. Ammette che la Juventus sta dando il massimo, trovandosi a un passo dall'Inter, nella classifica di Serie A. Riconosce che c'è spazio per migliorare il gioco, ma sottolinea che Allegri e la squadra stanno lavorando duramente per farlo. Le sue parole su Allegri mettono in luce la sua fiducia nel progetto in corso, ma aggiunge un elemento di suspense. Quello che manca ancora è riuscire ad abbassare il ritmo, andare in gestione per tirare il fiato, e poi rialzarlo, ma per questo serve esperienza. Le affermazioni di Chiellini divino in modo netto i tifosi juventini, tra quelli che sostengono Allegri, e quelli invece che non lo vogliono più. Tu da che parte stai? Ciao e alla prossima notizia!